Conf Commercio, amministrazione comunale, padri missionari redentoristi pronte a rendere Pagani la città del Natale. Con un incontro preliminare sono partiti ufficialmente i lavori per la nuova stagione natalizia. Il sindaco Salvatore Bottone ha incontrato il presidente di Conf Commercio Pagani, Luigi Amendola, e una sua delegazione del superiore della comunità dei padri redentoristi paganese, padre Luciano Panella. Spazio agli eventi, alla solidarietà, ma anche al rilancio del commercio con un'apposita notte bianca. Stiamo lavorando, abbiamo già messo su carta il programma nostro e stasera abbiamo fatto un incontro importantissimo con la Conf Commercio insieme al superiore dei padri redentoristi, padre Luciano, per fare qualcosa di diverso quest'anno. Lavorare in sinergia noi tre con le associazioni presenti sul territorio per far intendere che Pagani è la città del Tuscendi dalle Stelle, quindi Pagani è la città del Natale, è la città di Sant'Alfonso e quindi vogliamo creare un percorso che possa caratterizzare la nostra città. Quest'anno c'è anche un'importantissima novità, il padre superiore, padre Luciano, dei redentoristi, partecipa attivamente alla programmazione natalizia con l'auspicio che questo sia l'inizio di una programmazione di carattere annuale, quindi lui dice partiamo da Natale tutti quanti insieme, però noi insieme a Sant'Alfonso vogliamo stare vicini a tutte quelle che possono essere, le iniziative per il miglioramento della città, quindi abbiamo parlato di una condizione che per noi è fondamentale, quest'anno grande cambiamento di rotta, inversione di rotta, luminare artistiche per la città, le abbiamo proposte, pare che la richiesta sia stata accettata, sia passata anche dagli amministratori che anche loro hanno accettato e quindi non solo luminare ma tante altre novità ancora. Sant'Alfonso è il cantore del Natale con il Tu scendi dalle stelle, significativamente canzone del Natale, allora questo ci stimola un po' tutti a recuperare la nostra identità, che è legata a quella di Sant'Alfonso, che qui ha vissuto, qui è morto e qui ha impegnato il suo genio. La comunità dei missionari redentoristi che è presente sul territorio e vuole essere presente, soprattutto sostenendo nuove forme di collaborazione, l'apertura della casa, una disponibilità a mettere la faccia anche negli impegni che si vanno assumendo in favore di Sant'Alfonso e in favore della città di Pagani, città del Natale. Grazie. Grazie. Grazie.